Irrefrenabile voglia di salsiccia di Bra? Necessità di trascorrere un fine settimana in compagnia di gusto e tradizione? A Pasqua e Pasquetta ti aspettiamo a Bra! Appuntamenti a tavola, rassegna della salsiccia di Bra, mercato delle eccellenze, trekking, transumanza, fattoria didattica e ludobus per i più piccini. Un fine settimana davvero slow tra Langhe e Roero. Il programma su turismoinbra.it